Buon dia a tutti ragazzi, qui è di GeloQuando94 e benvenuti in questo trentesimo episodio di Minecraft Adventures. Siamo finalmente giunti al trentesimo episodio ragazzi, attenzione. In questo episodio continueremo la nostra creazione del secondo piano della struttura che servirà per creare grano, cactus e poi fai. Vedremo come creare anche la canna, da fumarci come i cannaioli. Allora, sono andato a vedermi un po' di V-Day, e sottolineo V-Day, su Youtube, di qualche coltivazione di cactus. Ne ho trovato uno che mi sembra abbastanza decente, non vorrei però che poi quello che vado a fare sia una mezza cagata, cosa che purtroppo, sono sicuro, accadrà. Ho finito il legno, andiamo a raccogliercelo come i veri pro sanno fare. Magari potrebbe servire anche della pietra, se secondo me della pietra ha del... No! No! No, è troppo lontano! No! Eh, sono furbo io. Con la spada! Sono un pro... No! Ma quanto è odioso quando andate a prendere un pezzo di legno da un albero... Vaffanculo, mi trolla! Andate a prendere un pezzo di legno da un albero alto così, e quello poi si incastra in una delle... Foglie. Mi prendi per il culo? Non puoi essere così basso, sei un cazzo di ab... Ok. Oh. The fuck? È un bug. È un bug. È un bug per forza. It's a bug! Sì, lo so che si dice bug, ma lo dico bug tanto per dire. Allora, se sentite magari il rumore di... Vaffanculo! Il rumore di vaffanculo in sottofondo? Ma volevo dire, se sentite magari i rumori... Un rumore in sottofondo di Facebook, state tranquilli, sono io perché ce l'ho aperto. Facebook. Perché... Boh, non lo so, mi andava di tenere l'aperto. Non lo tengo così mai aperto il mio Facebook. Quindi se magari capita che sentite il rumore, state tranquilli, molto probabilmente sarà da me. Beh, già. Anche se è praticamente inutile che lo tengo aperto, tanto non ci sto mai, quindi... È inutile. Yabba dabba doo, saltiamo! Mamma mia, l'uomo ragno. Lo chiamavano l'uomo ragno. Lo chiamavano l'uomo ragno. Esattamente, questa è la nuova canzone. No! Sono incastrato! Non è vero. Eh, eh. C'eravate caschetti. Allora, qua bisogna... Farsi... Farsi forza in mezzo a tutta la merda. Ah, potreste anche sentire in sottofondo il rumore dell'Xbox. Perché ce l'ha accesa. Volevo accendere per giocare un po'. Però poi mi è uscita la scritta che c'è un aggiornamento del sistema. Quindi adesso sto scaricando l'aggiornamento e più avanti lo installerà. E infatti questo video lo sto registrando il 19 di febbraio alle 15.29. E adesso sta... Prendiamo sta roba. Intanto mi prenderei anche qualche... Un po' di... Legname. Se vedete io mi sono anche dimenticato come cavolo si fa questo... Questa fabbrica automatica. Mi sono già dimenticato. Allora... Andiamo avanti... Spacchiamo, spacchiamo... Tutta la la spacchiamo... Allora... Troppo figa come cosa, ragazzi. Allora... Questo qui... Continuiamo a spaccare. Spacchiamo i coglioni. Quanto sono volgare! Sono troppo volgare. Ahia. Pensavo fosse finito un pezzo di pietra laggiù. Ah, mio! Ok. Ecco qua. Oh, ciao! Vediamo un po'. Eh, sì dai, possono bastare. Allora... Il mio modo di salire è qua. Allora, qui alla sarà da chiudere comunque. Allora... Tutto è legno, vamos! Allora... Perfetto. Allora... Iniziamo già sostituendo il legno... Alla terra da qui. Così almeno... Sarà esteticamente più fico. Molto fico. Sono fico! Sono, sono fico! Sono fico! Sono tanto fico! Con il problema dell'altezza... Ma non della larghezza basso ma fico! Se vi ricordate che la cantava siete dei geni assoluti e siete da stimare a vita! A vita! Allora... Ehm... Vediamo se me lo ricordo come andava fatto. Allora, la sabbia la togliamo. Togliamo anche questo perché serve tanta... Ma tanta... Ma tanta legna! Allora... Devo fare una base lunga 9. Se non ricordo male... Allora... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici... Qui è la grande undici... Quindi dobbiamo trovare il centro che è in mezzo a cinque... Quindi uno, due, tre, quattro, cinque... Questo è il centro. Perfetto. Quindi... Uno, due, tre, quattro... Cinque, sei, sette, otto... E nove. Perfetto. Così dovrebbe essere il centro. Allora, fatemi ricordare un po'... No, ho sbagliato. Sono un grande genius. Ehi, ma perché non hai staccato la pezza di legno con l'ascia? Perché non avevo voglia. Allora, quindi... Facciamo già la fila centrale così non mi rompe le palle e posso seguirla meglio. Allora. Vediamo un po'. Allora, dovrebbe essere lunga 8. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Quindi questo va tagliato. Tagliamolo. Come è giusto che sia, che vada tagliato. Quindi questo lo allunghiamo di conseguenza. No! Sono un coglione. Non devo dire parolacce, porca troia. Ah, il naso! Oddio! Ah! Oddio! Il naso! Prurito! Ah! Mamma mia! Dio santo! Meno male che non arrivate qui a vedermi, se no... Non sarebbe stato un bello spettacolo. Tranquilino, mi sono scaccolato. Non sono così volgare. Allora. Ok, ora dovremmo esserci. Da qui dovrebbe scendere l'acqua che trascina tutto quanto. Allora. Però, dovrebbe essere... Allora, ecco. Ha finito l'aggiornamento dell'Xbox. Adesso sentirete il T-Link dell'Xbox. Scommettiamo. 3, 2, 1! Non è vero. Tra un po' lo sentirete, forse. Sottolineo forse, perché non è sicuro. Ecco, ha fatto il T-Link adesso. 11 amici online. Online. Come l'ho detto? Online. Allora, poi qua... Andrebbe... Questo. Se non vado... Errato. Sì. Ok. Allora, alziamolo di un altro uno. Anzi, potremmo alzarlo direttamente di... Di niente. Stavo scherzando. Ok. Poi l'alziamo... Cosa è successo? Micro lag. Cioè, micro per modo di dire. Allora, dovrebbe essere adesso. Così, così. Così. E così. Mi serve l'acqua. Andiamo a prenderla. Dovrei averlo comunque... Dei secchi d'acqua. Sì, infatti, eccoli qua. Allora, togliamo questo. Togliamo questo. E mettiamo questo. Però, mi serve... Me ne servirebbe un altro. Perché non basta così. Mio Dio. Il rumore nel sottofondo. Pauroso. Allora, dovrei provare... Allora, facciamo un attimo una fontina d'acqua. Veloce, veloce. Tanto la terra ce l'ho per coprirla. Sì. Allora, veloce, veloce. Di quattro cubi. Allora, veloce, veloce proprio. Ok. Qua e qua. Allora, eh... Cacchio, sono un genio. Ok. Allora. Allora, dovrebbe essere... Parte da qua. Ok. Poi, di nuovo da qui. Ok. Di nuovo da qui. Vediamo però se riesco a prendere anche acqua qua. Da così. No, non ci riesco. Perfetto. Ah! Dio! L'acqua! Ok. Riempiamo tutto di acqua. Perché l'acqua... L'acqua è vita. E lì c'è la luna. Ciao, luna! Luna piena. No, è lì. Sì, luna piena. Luna nuova. Che bello! Ok, allora. Dopodiché mettiamo qui. Opla. Perfetto. Dovrebbe... Andare. Spero. E... Credo. Intanto, allora. Spacchiamo qui l'acqua. Acqua. Cioè, sì. Spacchiamo qui l'acqua. Pagassi di genio che sono. Ok. Serve luce. Quindi, allora. Serve luce. Qui. 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 E ho fatto la cazzata. E ora vi spiego anche perché. Il legno doveva stare qui. Ma io sono un genio. Sono un grande genio della finanza. Aggiungerei anche. Mio Dio. Allora. La sabbia va qui. Bagassa di Buldel. No! Sono un idiota. Dio santo. Ah. Qua ci metterò una... Una vita. Ci metterò. Cosa cazzo sto facendo? No, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto. Dio. Sono l'intelligenza fatta a persona. Santo Dio. Sì. Ah. Cristo. Ok. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ah. Gesù. Ok. Ventiquattro cactus. Li piazziamo subito. Ah, aspetta, mi sa che ho fatto la cazzata. Perfetto, così funziona comunque, sono un genius. Oppalas. Opla. Facciamo così, valla. Aia. Tua mamma. Deve essere aperta analmente verso tutte le religioni. Aspetta, questo quanto è... Eh, lo facciamo di due, allora. Anzi, no, lo facciamolo di uno, va, tanto. Non c'è bisogno di farlo di due. Basta che sia anche di uno e vedi che cresce senza problemi. Ok, allora. Così. Così. Ho fatto la cazzata, adesso rimedio. Così. Allora. Via tu. Ok, così dovrebbe comunque crescere normalmente. Allora, mettiamo questo. Poi questo qui. Questo e questo qui. Questo e qui. E... Sto qui. Sono un genio. Devo metterlo anche qui. No, non c'è bisogno di metterlo qua. Basta così. Ok. Comunque ragazzi, non sarà completata finché non vedrò almeno un pezzo di cactus venire. Cioè, nel senso... Cioè, nel senso... Vabbè, avete capito. Sporcaccioni. Eh, ok. Allora, adesso dovrei fare in modo che l'acqua... Qua venga verso di me. Allora, però forse potrei metterla anche di qua, direttamente. Da, Dio Santos! Aia, tua ma... Tua sore! Vabbè, soffriamo come i cani. Soffriamo come i cani! Ok. Oh sì! Il salto della... Della fede. Allora... L'acqua si dovrebbe tutta quanta riunire qui davanti. Per fare ciò... Facciamo così. Vediamo un pochi. Facciamo così. Facciamo così. E dovrebbe essere... Bene o male giusto. Allora, fammi vedere un attimo un paio di prove. Allora... Qua non ho piazzato cactus. Ok. Cactus arriva qui. Come potrebbe anche... Arrivare qui. Ti prego... Eh, vaffanculo. Come potrebbe benissimo arrivare da qui. Eh... Bene, bene. Può andare, può andare. Però io lo voglio... Voglio che arrivi qui al centro. Quindi... Per fare con questa cossa... Bisogna fare in modo che le correnti... Vadano in questo punto. Per fare ciò... Allora, proviamo a fare... Cos... Possiamo un cazzo... Così... E aumentiamo la portata della corrente. Riproviamo di qui e... Riaumentiamo la portata... Ehm... Vediamo un po'. Possiamo aumentarla anche da qui, ma non cambia un cazzo. Quindi aumentiamola anche qui. E anche qui no! Nooo... Dio santo... Sto soffocando... Sto soffocando... Ok, vediamo un po'. Dovremmo... No. Non ci asiamo. Aumentiamo ancora. Ora ci dovremmo essere, dai. Anche dall'altro lato. Chiudiamo così per bellezza. Dovrebbe essere giusto adesso, no? Vediamo un po'. Allora scende da qui... Arriva, 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 arriva qui... Poi scende, si sposta e arriva qui. La scende tutta dritta... E arriva qui. Minchia, non sarò troppo potente, zio. Cioè, minchia, zio, troppo figa, power sono. Perfetto. Ma comunque non è ancora finita perché dobbiamo ancora metterci il vetro. Ma siccome ormai il tempo a nostra disposizione, presumo sia ormai bello che è finito, proporrei di andare a farci una bella dormita. Vediamo se qua... No, qua l'avevo messo. Perfetto. È già cresciuto e io guadagno esperienza. Bene ragazzi. Anche questo trentesimo episodio è concluso. Spero che vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto... Se vi è piaciuto, scusate. Mettete un bel mi piace, scusate. Ho digerito. Se non vi è piaciuto, pazienza. Non posso piacere a tutti. Un saluto a tutti e... Hamus Vera!